Oggi sabato 25 marzo del anno 2023, siamo nella città di San Savero, provincia di Foggia in Puglia e qui alle 15.30 abbiamo con me, giornalista e conferenziere storico, la conferenza al teatro locale Giuseppe Verdi di San Savero, una conferenza sul principe Raimondo del sangue di San Savero, 1710-1771, organizzata dalla sua altezza reale il principe Cristian Agricola con la collaborazione del conte Morosini da Venezia. Grazie, a tra poco in questa bellissima città è una giornata stupenda, come stupenda all'intera terra di Puglia. Grazie a lei. Mi saluti Ettore. Grazie a tutti.